Grande attesa per lo spettacolo della Fura del Smbaus in programma domenica 30 dicembre al porto di Alghero, con inizio alle 21,30 punto in queste ore si stanno compiendo le prove generali con decine di volontari arrivati da ogni parte della Sardegna. Sarà un'anteprima mondiale del nuovo canto della Sibilla, un esperimento collettivo di socializzazione, in collaborazione con l'artista Mia Elmilinovich e la produzione della Prodea Group SRL. La mitologica Sibilla profetizza e vede il futuro. Per questo motivo resta e si sente come prigioniera del tempo tempo perduto.A seguito di un grande sforzo riuscirà a fuggire, liberarsi e spezzare le pesantissime catene che la imprigionano. A questo punto sorgerà un nuovo canto e da qui inizierà il suo magico viaggio nel cielo. Il pubblico potrà interagire scaricando sullo smartphone l'app Calliope.